Buongiorno, sono Carlo Iapullo, direttore tecnico della Punti di Vista, un'azienda leader nel settore tricologico. Oggi vi presenteremo il brand Nuance. Nuance, una colorazione alle ceramidi, 83 colori tutti miscelabili tra di loro, tubo da 100 NL, miscelazione 1 a 1,5. Sulla nostra modella Nadia andremo ad ammirare una colorazione nero-blu con all'interno delle sfumature pastello. Nuance, un'azienda leader nel settore tricologico. 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 Nuance, un'azienda leader nel settore tricologico.